Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, ho deciso per tutta la settimana di farvi vedere quello che mangio in un giorno di Portion Control Diet Oggi ho due fette di pane tostato con avocado, due uova con sopra il formaggio e una pera Poi qui ci sono le vitamine e gli omega 3 che sto prendendo con il progetto Empowered Woman E poi c'è la mia solita borraccetta piena d'acqua che devo andare a berne almeno 3 al giorno E difficilmente ci riesco ma comunque ci sto provando Ho fatto un'insalatona con delle cose che avevamo già cotte nel frigo E quindi ho messo mezza patata bollita Un barattolino giallo Aspettate Un barattolino giallo di farro Poi uno verde di insalata e uno verde di cavolfiore E poi un rosso e mezzo di pollo Fatto così in padella velocemente Buon appetito! Per stasera ho passato di verdura Solo verdure L'ho preso già congelato All'Eurospin Ci sono solo verdure Non ci sono né legumi né patate Con un E ho fatto un barattolino verde e mezzo E poi un cucchiaino d'olio E poi un barattolino giallo pieno di farro Un rosso di prosciutto crudo E un verde di insalata con un cucchiaino d'olio Mi ero dimenticata un arancione di olive Ce ne sono dieci Ho messo queste verdi Perché in questi giorni avevo mandato quelle nere Perciò adesso per cambiare un po' ho preso queste verdi Allora come avete visto Mi sono fatta una torta in tazza E qui invece mi sono fatta una tisana drenante Perché comunque oggi ho bevuto veramente pochissimo Quasi niente Perciò non ci sono fatta la tisana Adesso metto il burro di arachidi Sopra alla torta in tazza che ho tagliato a fette E il mio spuntino In teoria dovevo mangiarla a metà pomeriggio Ma siccome siamo state in giro Non ho avuto tempo E quindi me la mangio stasera Prima di andare a nanna Vi faccio vedere dopo come viene finita Perciò non ci sono fatta la tisana Perciò non ci sono fatta la tisana